Bentornati amici, oggi vi voglio far vedere uno degli ultimi lavori che mi è stato commissionato, si tratta di un'animazione per un logo. In particolare stiamo parlando di un logo per un artista per cui vedrete che ha delle caratteristiche e dei tratti abbastanza forti. La progettazione è stata abbastanza complessa perché deriva infatti da nove cerchi sovrapposti ripetuti per tre volte, un concept di cui abbiamo parlato con l'artista e che gli è piaciuto molto. La prima cosa che andiamo a fare è aprire una nuova composizione. Andiamo a scegliere delle impostazioni standard, quindi un normalissimo full hd, frame rate 30 secondi, diamogli una durata di 5-6 secondi, direi non molto di più, la nominiamo come vogliamo. Ok ecco qui il nostro progetto. A questo punto andiamo a importare delle risorse, in questo caso io vado a prendere un logo su png, quindi è un logo con trasparenza, vado a prendere un logo con trasparenza perché dovrò andare a tracciarlo. Ora la prima cosa che andiamo a fare è inserire il logo all'interno della nostra animazione, all'interno della nostra sequenza ed eccolo qua. Adesso io sto visualizzando in qualità molto bassa perché quello che andremo a fare dopo richiederà molte risorse da parte del computer. Questo è anche il motivo per cui non si vede benissimo in certi passaggi, però una volta che andremo a esportare si vedrà poi bene. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è duplicare questo livello, quindi cmd D o ctrl D abbiamo duplicato il livello. Andiamo a spegnere il livello sotto, andiamo a selezionare il livello sopra e quello che andiamo a fare adesso è layer auto trace. Lasciamo le impostazioni di default, quindi lasciamo canale alfa blur 0, lasciamo tutto così com'è. Potremmo dirgli applica un nuovo livello e così non avremmo avuto bisogno di copiarlo inizialmente, ma ho preferito copiarlo prima per abitudine semplicemente. Ok auto trace è stato applicato. Che cosa è successo? Semplicemente è stata creata una traccia e il nostro livello adesso è una traccia, è un pochettino come l'auto trace d'illustrator. Sostanzialmente abbiamo creato tutti i punti intorno al livello png che avevamo inizialmente. A questo punto che cosa succede? Noi possiamo creare un nuovo livello che sarà in questo caso un solido, un solido nero che chiameremo animazione, lo mettiamo sotto. Ora su questo livello noi andremo a copiare tutti questi punti, per cui selezioniamo i nostri punti da qui, andiamo a selezionare maschera, facciamo command c o control c se stiamo usando un pc, andiamo su animazione e incolliamo il nostro livello. A questo punto possiamo cancellare questo livello che avevamo precedentemente creato. Abbiamo il nostro livello con tutti i nostri punti direttamente incollato, che è la maschera poi, è incollato sul nostro livello animazione. A questo punto andiamo a prendere all'interno dei nostri effetti, andiamo a cercare questo effetto che si chiama Saber che trovate sul sito di Copilot, è un plugin gratuito per After Effects, quindi vi consiglio di scaricarlo e vi lascio il link in descrizione, è molto carino e ci si possono fare un sacco di cose, quindi è sì un plugin di terze parti ma è completamente gratuito. Andiamo a prenderlo e lo applichiamo al nostro livello animazione. Vedete che ci mette qualche secondo perché tutto sommato non è un'operazione così semplice applicare questo plugin a un logo con tutti quei punti, quindi ovviamente più il vostro logo è complicato più tempo richiederà, però il risultato ne dovrebbe anche valere la pena. Se state facendo un'operazione di questo tipo è perché comunque volete un logo che si differenzi un pochino e quindi che sia un po' più caruccio da vedere. Molto bene, siamo arrivati a questo punto e vediamo che il plugin ha semplicemente applicato quella che sostanzialmente è una spada laser perché questo plugin nasce per fare effetti speciali alla Star Wars per intenderci. Quello che noi andiamo a fare adesso è che andiamo a customizzare il core e gli andiamo a dire invece di saber cioè la spada gli andiamo a dire layer mask. Ecco che abbiamo applicato il nostro plugin direttamente sopra il tracciato che abbiamo precedentemente creato. Ora la cosa bella è che possiamo applicare uno dei preset che sono già presenti, sono molto molto belli tutti quanti devo dire. Quindi se vogliamo per esempio dargli un effetto fuoco andiamo ad applicare un qualcosa del genere e vediamo che dal nulla abbiamo già ottenuto un effetto che me la sentirei di dire molto molto carino. Possiamo andare a personalizzarlo ulteriormente sia lavorando sui parametri sia selezionando un altro plugin. Quindi possiamo sceglierne un altro che ci piaccia di più, possiamo cambiargli il colore, possiamo scegliere a seconda dei plugin che abbiamo oppure andando a intervenire direttamente. Quindi possiamo per esempio diminuire la glow intensity e otteniamo un effetto completamente diverso. Possiamo anche animare questi parametri durante un arco di tempo. La cosa che mi preme fare adesso però è passare da questo logo al logo normale. Quindi al logo iniziale che noi abbiamo ottenuto perché avevamo duplicato il livello inizialmente e non l'abbiamo buttato. Per cui che cosa succede adesso? Noi abbiamo il nostro logo che si presenta più o meno così. Quello che adesso andiamo a fare è creare una serie di animazioni per sviluppare questo logo e arrivare alla fine al logo finale. Andiamo ad agire innanzitutto sulla glow intensity perché vogliamo farla salire in maniera tale che il logo esploda per regalarci poi il logo finito. Per cui partiamo da un valore molto basso e andiamo non proprio a 0, andiamo a 10 frame e mettiamo un primo punto sulla nostra timeline. Andiamo ancora un pochettino avanti e gli diamo un valore molto più ampio, diciamo un 30. Dopodiché cominciamo a calare e qui nuovamente torniamo a un valore abbastanza basso. Parallelamente andiamo ad agire, io premo il tasto T sulla tastiera così vedo l'opacity di questo livello. Allora l'opacity io inizialmente la voglio a 0 perché il logo non si deve vedere da subito. Il logo voglio che cominci a entrare da qui. Quindi quando la nostra animazione raggiunge l'apice io voglio che si cominci a vedere il logo definitivo per arrivare qua dove il logo definitivo sarà a 100% e andremo gradualmente a spegnere invece l'animazione in modo tale che sembri che il nostro logo è emerso dal fuoco. Torniamo al punto iniziale e gli diamo anche un inizio di offset e questo parametro lo mettiamo al 100%. A questo punto mi sposto di nuovo un po' più avanti e torno a dargli un valore di 0. In questo modo quello che ho ottenuto è che il mio logo si va come potete vedere tracciando. L'animazione ovviamente è molto lenta, ci vogliono molte risorse del computer per far vedere quello che sta succedendo anche se ho rimesso la piena qualità. Quindi adesso vado a diminuirla ulteriormente così forse riesco a farvelo vedere in tempo reale. Quello che gli abbiamo detto è che il logo deve nascere sostanzialmente da un disegno infuocato. A questo punto una volta che il nostro logo è nato e si trasforma con il bagliore nel logo vero possiamo andare a far uscire di scena lentamente questa animazione. Per cui possiamo andare ad agire su una serie di parametri. Partendo da qui possiamo andare a dirgli per esempio che l'intensità deve calare per cui andiamo a diminuire l'intensità. Portiamo proprio a 0. Andiamo a diminuire anche le dimensioni del bagliore. Quindi portiamo man mano tutti i valori a 0. Andiamo a diminuire anche le dimensioni. Facciamo in maniera tale che esca proprio tutto di scena. Esattamente così. Questa è una cosa che potremmo fare anche all'inizio per la verità. Nel senso che potremmo dargli dei valori molto bassi all'inizio e farli arrivare dove sono successivamente. Quindi potremmo andare ad aggiungere dei keyframe. Io adesso seleziono questa traccia e premo U così mi fa vedere tutti i keyframe attivi. A questo punto io posso andare a selezionare questi punti. Li seleziono tutti. Li copio. Li porto qui. Quindi a questo punto saranno tutti pienamente sviluppati. Invece a questo punto dove mi posiziono metterò tutto quanto a 0. Quindi per esempio core size in questo punto sarà 0. Quindi per esempio halo intensity in questo punto sarà 0. E abbiamo anche halo size in questo punto sarà 0. In questo modo vediamo che cosa succede. Vediamo che il nostro logo si accende lentamente per poi svanire lentamente quando entra il logo definitivo. Possiamo giocare un pochino sui tempi dell'animazione. Questo forse è andato un po' troppo rapidamente quindi lo sposto un po' più avanti in maniera tale che esca in maniera più graduale. Andiamo a vedere il risultato finale. Si può lavorare ulteriormente sull'animazione e su tutti i keyframe. Una cosa che io vado a fare praticamente sempre è che seleziono i keyframe e premo F9. In questo modo vedete cosa succede. L'iconcina è cambiata perché ho aggiunto le curve di Bezier alle mie animazioni. Quindi ogni keyframe è stato animato con le curve di Bezier che rende più morbida l'animazione. Per farvi capire di cosa sto parlando io adesso seleziono questi due keyframe e apro il graph editor. Vediamo all'interno del graph editor che quello che è successo è che gli abbiamo dato una curva molto morbida. Se io non applico assolutamente niente la mia curva risulta piatta in questo modo. È semplicemente un effetto che entra con un gradino molto duro. Invece nel momento in cui io vado a selezionare i miei keyframe e premo F9 vedete che quello che è successo è che è stata disegnata automaticamente una curva. La curva di Bezier è il passaggio più morbido possibile per un'animazione così come viene utilizzato anche nelle illustrazioni. Chi usa Illustrator avrà molta familiarità con questo tipo di curva. Ora ovviamente io posso andare a modificarla ulteriormente tuttavia semplicemente premendo F9 avremo un effetto molto morbido che guiderà automaticamente la nostra animazione in maniera molto più gradevole per l'occhio. Andiamo a vedere il risultato finale. Si può sicuramente andare a lavorare sul bagliore per fare sì che questo bagliore intorno che io vedo sia un pochettino meno presente. Questa questa specie di aura che c'è intorno può sicuramente andare a essere rimossa. Una volta che abbiamo fatto questo giochino per l'animazione possiamo anche selezionare nuovamente il nostro livello e andare a modificare il nostro preset e avremo un effetto diverso. Sarà sempre la stessa cosa però il nostro effetto si muoverà in maniera diversa perché abbiamo cambiato il preset e quindi sarà diverso l'effetto finale che andremo a vedere. Molti non saranno adatti a causa di un tratto troppo spesso però alcuni potrebbero riservare davvero delle belle sorprese. Tutti quanti giungeranno alla stessa conclusione perché alla fine il logo emergerà dal fuoco e l'animazione si andrà pian piano spegnendo. Ovviamente come vi dicevo prima lo stiamo vedendo a un terzo della qualità quindi adesso lo vedrete sgranare però una volta esportato risulterà a piena qualità. Andiamone a vedere anche qualcuno che non sia fatto di fuoco. Questo qui neon è un pochettino più semplice arriviamo alla stessa conclusione e possiamo modificare i colori quindi qui questo neon è rosa ma noi possiamo dargli un altro colore di nostro piacimento. Potremmo andare a prendere per esempio un arancione così avremo esattamente il colore del nostro logo da cui poi il logo stesso emerge. Potremmo anche farlo verde. Questo qui è già verde di per sé possiamo ovviamente andare a modificare i colori ma questi preset consentono anche di giocare moltissimo con dei colori diversi. Andiamo a vederne qualcun altro giusto per divertimento. Questo qui crea un bel contrasto perché abbiamo il logo arancione che emerge dal blu potrebbe essere un effetto carino. È il caso di provarli e sperimentarli tutti secondo me perché ce ne sono alcuni che meritano veramente. Quindi il mio consiglio è di provarli tutti i preset perché come vedete io li sto provando a caso non ce n'è uno che sia veramente brutto ci stanno praticamente tutti. Si tratta solo di trovare quello che si addice di più alle vostre esigenze. Secondo me questi sono comunque molto molto carini. In questo caso vedete che qui il logo rimane acceso perché qui c'è qualcosa nella prima animazione che ho fatto devo aver spento qualcosa che qui invece rimane attivo da qualche altra parte. Quindi devo andare a rivedere i parametri. Tuttavia fino a qui l'animazione va assolutamente bene. Quindi è questione di giocarci un pochino per realizzare l'animazione perfetta per il vostro logo a seconda delle vostre esigenze. Ricordiamo che ogni logo avrà un tratto di dimensioni diverse. Quindi qui lo spessore è di un certo tipo e io ho dovuto impostare il core size di conseguenza. Dovrà ovviamente essere diverso a seconda di quello che volete andare a fare. Un'altra cosa che è possibile vedere sono le dimensioni in partenza e alla fine. Per cui start size io posso diminuirlo di parecchio e end size posso aumentarlo di parecchio. In questo modo vedete che quello che succede è che il mio logo sarà molto più spesso all'inizio e molto più il tratto. Il tratto che va a disegnare il mio logo. Vedete? Adesso lo deseleziono così lo vediamo. Sarà spesso nel momento in cui parte e diventerà più fine man mano che prosegue. Si può fare anche il contrario ovviamente. Si può fare start size molto grande e si può fare end size molto piccolo. Forse anche meglio in questo caso del fuoco perché così sembra proprio che sia un dito che va a disegnare il nostro logo. Eccolo qua. Esattamente come prima il nostro logo emerge dalle fiamme. Se l'effetto non sparisce come vogliamo possiamo anche molto semplicemente andare ad agire sull'opacity per cui una volta che il nostro logo quello vero diciamo è pienamente formato noi andiamo a far uscire con l'opacity andiamo a far uscire di scena la nostra animazione. Quindi in questo modo otteniamo esattamente la stessa cosa. Andiamo a rivederlo. Ecco qua. In questo modo abbiamo sì il nostro logo che emerge dalle fiamme però con lo spessore diverso. Dopo la fiammata sparisce tutto e rimane solamente il nostro logo originario.